uè non fare il tacco incacchiato da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci si darò né da yeh ammazzato tutti scendendo ci viene e che cazzo c'è da licendini no ha tirato una slurp e non ce la posso dare la sono già tirata io benvenuto caffi tv ho capito le posto delle colpi leggeri ma un po bene gente che ci può sciogge di che ci pusho morto con ff di vista di fermarti non parlare perché ff non cominciare a dirmi quello che devo fare che mi incastro ragione che è che cosa sta succedendo 3 1 f 31 mi dicono in chat attenzione un attimo che devo bannare adesso la adesso e vanno mi dia un secondo ok ok li vedo 62 bianco blu blu c'è il tipo qua davanti 62 ancora il tipo blu si ha messo il palo quel figlio di pula bianco entro con te entro con te 30 bianco morto giù manca questo ciao morto la seguo faccio attenzione che non è così male questo la guada me xd lo salgo vado dietro e lo faccio solo panica è uscito ok bianco bianco non devi sparmare devi ammazzarlo f se non ce la fai fatelo fattelo non c'è problema aspetta che arrivo devi stare al mio piano è uno di vita proprio l'ho lasciato solo veloce è mio eccolo qua guardi qua spami spami con la miglietta io stavo giù assolutamente spami con l'avversario lo vado lo vado lo vado lo vado è mio è mio appena modifica è mio appena modifica non mi si non mi si 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 non devi stare ha ragione ha ragione ha ragione ha ragione non mi si li sto massacrando di blu 30 lasciamolo è mio è mio è mio il marshmallow è bianco punti marshmallow a terra al marsh coniglio preso coniglio morto mi sto bendando mi sto bendando mi sto bendando ci puce altra gente da sopra non ci credo non ho niente f non ho niente f non abbiamo fredda andato a quante chi la ha? 7? 8 kill 8 kill lei si sia focussato sull'avversario non ci penso io a evitare a qual modifichare a fare ok asseguo l'asseguo è bianco questo qua è bianco questo sotto attento c'è neanche uno sopra a terra 1 non panichi ti fermo sei buono ho quasi finito non ammazzicolo per te la pensi è quanto qui ok se mi ha detto ti lo prendo è ancora blu è ancora blu no aspetta aspetta non abbia fretta venga qua venga qua venga qua si piace i cittini vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua partite le bende mi raccomando ho preso le ho preso le ho preso l'obiettivo che non debba morire perché è bianco ancora bianco ancora andato 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 via 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 ci muova ok sono qua sono qua tenga questi non parola tino da media senza gli altri due voglia di do subito un secondo si muove che ci sta spaccando subito sotto ok non si butti di capofitto ho seguo la seguo è sotto qua è qua sotto 62 mio 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 è 11 e 11 e 11 e 11 e 11 e mi basta fare una kill per il eccoli due scusi mi è già da ridere niente non rida non rida sto arrivando e fe lo sento nelle mani e fe lo sento nelle mani andiamo deve essere ecco dopo due anni attenzione sto in ansia io sto in ansia continua a seguirla 50 mio 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 è bianco e fu un record e andiamo oh shit f andiamo 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 oh shit dopo due anni che l'abbiamo fatta 12 kill prot non è finita f non è finita non è finita attento che mirano con calma si usa sempre con calma la seguo la seguo sempre la seguo sempre non entri dentro che potrebbe essere si trappole calzate la squadra sono con lei sono con lei venga qua venga qua eccomi sta là dentro sono in due sono in due govra sotto ok sicuro se serve non serve non serve venga qua guardia sua guardia sua quanto hai fatto quanto hai fatto 28 blu sparo prima io 93 blu ok bianco oh 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 attenzione del draplo attenzione del draplo a Šografeno ok no non mi vado esercito non mi vado esercito che aspetto oh la coperta che culo venga qua venga con me eccomi la seguo ancora non è che sto là dietro no no si foro lo rendo in fin di vita questo qua cerca di farlo cascar è 50 bianco l' available non ho capito dove vedeva solo dove vedete la pezza lo sparo ma come un animale ha molta più vita lei ha molto ma per un altro dato e dato andato gg 14 kill o mio dio f o mio dio 14 gil 14 kill è super mamma mia prenda qua e 14 che la vaga incredibile incredibile arrivo sto arrivando sto arrivando sto arrivando non è finita non è finita non me li faccio non me li fa basta non panicare qui mi riprendo me li prendo tienili tienili non so chi sa che l'ha visto visto devo farmelo devo farlo fattelo fattelo ok sono 15 tienimelo tienimelo qualche vado a fare l'ultima non c'è fretta 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 venga qui ti faccio farò io non lo tocco perché ho pure di ammazzarlo non so quanto mi fa lo prendo io lo prendo io lo prendo io questo se si fuori la vita io tengo tanto l'altezza sono full la seguo eccolo qua eccolo qua è sotto di noi non salga troppo tenga un minimo un minimo di altezza ok ok ho capito da io spargo tanto sulle citture non sparo sulla vertaglia poi ti passano i suoi colpi e non i miei ah mio dio e andiamo a chiuderla con questo record grazie F e si figuri 17 17 e non lo so sono quante sono come 17 16 16 16 16 kg oh mio dio